Guardi, io ricordo di quella giornata che è stata veramente triste. Parlarne dopo 11 anni e ricordare fa veramente male per noi addetti ai lavori. Noi geologi, per quanto riguarda il sesto idrogeologico, abbiamo iniziato molti ma molti anni prima a dire che il territorio è andato messo in sicurezza. In particolar modo per l'isola Dischia, che è un territorio fragile dove il 18-20% della popolazione è a rischio frana. Quindi sono numeri che spaventano rispetto ad un comune della Campania. Sono questi numeri che dovrebbero farci riflettere ricordando ieri ma che sono di nuovo attuali anche oggi.